Sono Lucio Cecchinello, team manager e proprietario del team LCR con sede nel Principato di Monaco e abbiamo la grande fortuna di partecipare alla MotoGP e molto presto cominceremo gli allenamenti, le prove per preparare la stagione 2014 che si farà ovviamente a partire dal Gran Premio del Qatar fino al Gran Premio di Valencia in tutto il 2014. Ci avremo sempre stato ambrato come pilota e ce la metteremo tutta per fare qualche podio in più di quest'anno.